Un presidio venerdì mattina davanti alla prefettura, i lavoratori e le lavoratrici di Rimini, come quelli del resto della regione, collocati in cassa integrazione in deroga, non stanno ricevendo i pagamenti da parte dell'Inps. Il presidio, deciso dalle segreterie Cigelle, Cisle, Huila e dell'Emilia Romagna, coerentemente con quanto già indicato, unitariamente anche a livello nazionale, mira a sollecitare Palazzo Chigi a sbloccare in tempi rapidi i pagamenti. A Rimini il sitino avrà luogo davanti al Palazzo del Governo in via 4 novembre, dalle 10 alle 12, Il blocco dei pagamenti dell'ultimo periodo dello scorso anno, stabilito dal Ministero del Lavoro e dall'Inps, sta producendo effetti che per il sindacato sono socialmente insostenibili e che si vanno ad aggiungere ad una situazione ogni giorno più critica per tanti lavoratori dipendenti. Solo nel corso del 2012 nella nostra regione sono state utilizzate 93 milioni di ore di cassa integrazione, oltre 9 milioni nella provincia di Rimini, delle quali 42 milioni di ore in deroga, 3 milioni e mezzo nel riminese. Per il 2013 inoltre la legge di stabilità non ha confermato il pagamento anticipato ai lavoratori da parte dell'Inps. Questo significa concretamente che nell'ipotesi migliori i lavoratori riceveranno gli emolumenti degli ammortizzatori in deroga non prima di 4 mesi dalla sospensione dal lavoro, così come non è stata prorogata la norma che consente ai lavoratori licenziati nelle aziende sotto i 15 dipendenti o per giustificato motivo oggettivo di essere iscritti nelle liste di mobilità. Vengono quindi meno gli incentivi per le aziende che li assumono. In una situazione di crisi che ormai dura da 5 anni, CGL e Cisde Will giudicano i responsabili nelle decisioni del governo dell'Inps e invitano i lavoratori a partecipare al presidio di venerdì 15 febbraio per difendere il proprio reddito.